Bene, eccoci tornati in studio per la seconda mezz'ora della nostra trasmissione. Torniamo sulla nostra tribuna. Roberto Martignoni, responsabile iniziative per i bambini. Cosa significa questo? Che lei è la mente che crea tutte le iniziative? Buonasera, innanzitutto non sono io, siamo tutti nello sci-club a fare da mente, diciamo. Ci organizziamo e abbiamo creato questa festa nazionale dei bambini, che è il quarto anno quest'anno, trofeo leoncino. E i bambini dai quattro... Quattro abbiamo anche, vedo dietro, proprio la brochure, no? Sì. Della associazione. Praticamente l'anno scorso avevamo più di 300 iscritti, è una festa nazionale proprio, e però a scopo di divertimento dei bambini sulla neve. Infatti, alla fine c'è una gara, però vengono premiati praticamente tutti con dei giochi, si fanno delle cacce al tesoro, viene fatto il pranzo tutto gratuito e alla fine una, come si può dire, una lotteria per dare dei premi a quasi tutti i bambini che si sono presentati a questa festa nazionale. E quindi alla fine quanti coinvolgete di bambini? Dei bambini l'anno scorso erano più di 300. Provenienti? Da tutta Italia. Tutta Italia proprio? Sì. Ma scusi, ma per organizzare una manifestazione di questo tipo, però, oltre che tante energie, ci vorrà anche della partecipazione di tanta gente, perché non si organizza così facilmente. Tutti volontari. Siamo in una quarantina di volontari che praticamente organizzano, danno da mangiare, cucinano, servono tutti i bambini. E immagino che non comincerà il giorno prima anche questa iniziativa. No, comincia molto. Si va da un anno per l'altro. Sì, sì, sì. Dalla settimana prossima cominciamo a organizzare il tutto. Eh, insomma, quindi è una bella iniziativa, ma soprattutto richiede tante energie, insomma. Sì. Questo dimostra anche che tutto sommato avete creato un gruppo che sa muoversi. Sì, un gruppo molto molto unito che si sa muovere e si aiuta uno con l'altro. che non sempre si riesce a fare. Complimenti, complimenti vivissimi per questa iniziativa. E, ecco, tu parlavi prima...